L'antico borgo di Zuccarello, incluso da Lanci e tra i borghi liguri più belli d'Italia, non si hanno molte notizie sino al suo atto di fondazione, il 4 aprile 1248, conservato nell'archivio comunale. Le sue origini si perdono nel confuso spartiacque tra i territori bizantini e longobardi. Il castello di Zuccarello, pensato dai Clavesana nel sistema per difendere il Marchesato, deve precedere di poco la nascita del borgo. Le vicende della sua storia sono sempre state legate alle lotte dei feudatari che lo hanno posseduto. Dopo la fondazione dei Clavesana e il suo sviluppo in dimensioni e importanza, passò ai del carretto di Finale, famiglia della nota Ilaria, immortalata nel sarcofago da Jacopo della Quercia, e il cui matrimonio viene ogni anno a luglio ricordato nel gioco della dama vivente. Siamo nella prima metà del XIV secolo e il castello divenne probabilmente la residenza della famiglia, che lo arricchì con gli importanti arredi testimoniati dai documenti antichi. Seguirono contese ereditarie e il declino dei del carretto nel XVI secolo. Successivamente fu il fulcro della guerra di Zuccarello, scatenata tra Savoia, Francesi e Repubblica di Genova, conclusasi nel 1631 con il dominio genovese, che lo dedicò ad una funzione esclusivamente militare. Fu dunque nei secoli più volte ristrutturato, tra gli ultimi interventi, quelli ordinati dal generale francese Andrea Massena, verso la fine del XVIII secolo. Il castello è stato oggi recuperato dall'intervento previsto nell'ambito del progetto di valorizzazione delle risorse naturali e culturali della Liguria, asse 4 del Port Fesdre 2007-2013, risistemando negli spazi esterni per ospitare mostre ed eventi, riordinando anche percorsi di accesso e aree di sosta per sviluppare, a livello turistico, il grande valore storico e naturale.